finalmente ragazzi questa settimana ci siamo finalmente è uscita la hobb 10f l'abbiamo aspettata così tanto tempo che ormai nessuno pensasse che uscisse oggi questa macchina e invece eccola qua finalmente ce l'hanno fatta uscire guardate che bella che è questa nuova auto soprattutto con questa colorazione rossa ma soprattutto notiamo che il prezzo è di un milione e sei non è eccessivamente alto secondo me quindi effettivamente con un caio perico ve la potete portare tranquillamente a casa fatemi sapere qua sotto nei commenti quanto siete casati anche voi per l'uscita della nuova hobb 10f e fatemi sapere se volete il video dove l'acquisto la modifico completamente andandolo a provare bella a tutti ragazzi io sono atri e benvenuti in questo nuovissimo video dell'aggiornamento settimanale di gta online come ogni giovedì qui sul mio canale proprio per questo se ancora non siete iscritti mi raccomando andate qua sotto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche così non vi perdete i prossimi video e le prossime live che vi ricordo sono in live tutte le sere a partire dalle ore 21 21 e 30 qui su youtube ma detto questo come avete visto abbiamo iniziato subito con la nuova auto la hobb 10f un leggero cambiamento perché di solito abbiamo sempre iniziato con il veicolo sul podio che come vedete qui alle mie spalle è il cara cara armato provate a vincerlo subito qui alla ruota della fortuna basta che avete l'abbonamento standard al casino che potete acquistare per 500 dollari alla reception del casino girate la ruota della fortuna e vedete insomma se riuscite a portarvi a casa il veicolo non nel mio caso vediamo cosa ci portiamo 20.000 fish va benissimo sempre meglio della mystery o dei vestiti e ritirate anche il bonus giornaliero mi raccomando ogni giorno so sempre mille fish in più gratis bene detto questo andiamo su legendary motorsport oltre appunto alla nuova hobb 10f andiamo a vedere le altre offerte che abbiamo questa settimana innanzitutto abbiamo la fister growler che passa da 1.600.000 a 976.000 se avete il prezzo normale mentre 1.220.000 a 732.000 se avete il prezzo scontato dopodiché abbiamo la emperor vectre che passa da 1.785.000 a 1.071.000 se avete il prezzo normale con il prezzo speciale passa invece da 1.338.000 a 803.000 dollari poi qui giù in fondo alla lista abbiamo la pegassi infernus che è scontata del 50% e passa da 440.000 dollari a 220.000 dollari questa settimana nel warstock abbiamo una unica offerta ossia la stromberg che passa da 3.185.000 dollari a 2.229.000 dollari con il prezzo normale con il prezzo speciale passa da 2.395.000 dollari a 1.676.000 dollari all'interno del southern san andreas abbiamo la calico gtf che passa da 1.995.000 dollari a 1.396.000 dollari se avete il prezzo normale con il prezzo speciale invece passa da 1.496.000 dollari a 1.047.000 dollari poi abbiamo la run cebure che passa da 145.000 dollari a 72.000 dollari e 500 dopodiché c'è la benefactor strider che passa da 500.000 dollari a 350.000 dollari queste erano tutte le offerte per quanto riguarda i veicoli adesso andiamo a vedere le offerte dei business partendo dal dynasty 8 executive dove potete notare che questa settimana abbiamo in offerta l'agenzia tutte le agenzie saranno in offerta come vedete quella meno costosa che potete acquistare è quella little seoul che costa 1.200.000 dollari adesso che è in sconto mentre quella più cara è quella dowick che potete acquistare per quanto riguarda l'agenzia in realtà tra tutte le varie posizioni non cambia nulla a livello di funzionalità dell'agenzia quindi qualsiasi agenzia acquistate hanno comunque sempre tutte le stesse funzionalità potete fare le stesse identiche cose e gli interni sono gli stessi le uniche cose che cambiano è la posizione dell'agenzia e la vista che avete dall'interno dell'agenzia tutto il resto è uguale identico quindi tutte le cose più importanti sono uguali per cui sia che voi acquistate questa agenzia little seoul da 1.200.000 o che acquistate insomma quest'altra agenzia rock for deals da 1.450.000 dollari non cambia assolutamente nulla a livello di funzionalità come potete notare sono in offerta anche tutte le varie modifiche dell'agenzia personalmente se avete pochi soldi quelli che mi sento di consigliarvi sono l'armeria all'alloggio e l'officina perché sono elementi diciamo fondamentali elementi che vi servono sono utili e non sono solo diciamo decorativi per quanto riguarda invece tinta carta da parati e decorazioni appunto come dice il nome sono tutte cose decorative quindi non funzionali per cui se avete pochi soldi evitate di spendere soldi su questo bensì acquistate assolutamente armeria all'oggio e officina l'armeria è veramente molto utile pertanto ve la consiglio perché vi permette di fare un sacco di cose con le armi comunque se volete saperne di più in generale sull'agenzia ho fatto il video intero sul mio canale dove ho spiegato come funziona l'agenzia come si guadagna soldi con l'agenzia eccetera eccetera per cui vi consiglio di andare a vedere quello l'alloggio invece vi permetterà di spawnare all'interno dell'agenzia cosa che secondo me è veramente molto comoda soprattutto se nel menu interazione mettete appunto l'agenzia come luogo di spawn cambiate sessione se vi trovate dall'altra parte della mappa e nell'arco di 2-3 secondi soprattutto su next gen vi teletrasportate all'interno dell'agenzia e per quanto riguarda l'officina invece vi permetterà di modificare le auto soprattutto di inserire la tecnologia in mani all'interno delle auto che la supportano che secondo me è veramente una gran figata per cui vi consiglio assolutamente queste tre modifiche per quanto riguarda la prova a tempo di questa settimana la troveremo a Mount Gordo per quanto riguarda invece la prova a tempo dell'RC Bandito si troverà all'interno della villa di Madrazzo nelle Vainwood Hills mentre la prova a tempo di house si troverà all'interno del parco eolico mi raccomando raga provate sempre a fare le sfide a tempo perché se riuscite a farle vi danno tranquillamente 100.000 dollari per quanto riguarda invece guadagnare soldi questa settimana se volete fare delle attività che potete fare anche praticamente appena iniziato il gioco quindi rango 1 e 0 soldi andate sul menu andate su online attività avvia attività e andate su create da rockstar a questo punto andate nella sezione modalità competizione e questa settimana abbiamo una nuova attività che si chiama il giorno del giudizio se non mi sbaglio dovrebbe essere una nuova attività perché la valutazione c'è scritto non ancora valutato quindi di solito quando è così è una nuova modalità competizione però non mi ricordo se è una modalità vecchia che hanno riintrodotto perché mi sembra di averla già vista in passato comunque in ogni caso questa attività soldi è più doppi quindi a livello di guadagno potenzialmente vi portate a casa tranquillamente tra i 50.000 e i 150.000 con questa attività in particolare se riuscite a vincere l'attività e insomma se siete abbastanza giocatori e fate abbastanza round ripeto queste attività le potete fare anche a rango 1 e soprattutto anche se le perdete comunque guadagnate soldi e guadagnate rango quindi in ogni caso se non sapete come altro fare soldi a parte guardare la mia serie di diventiamo ricchi su gt online dove spiego come fare soldi vi consiglio comunque di fare queste attività oltre alle modalità competizione abbiamo anche le missioni viaggio sballato sono 3 tutte 3 hanno soldi RP doppi quindi se volete potete provare anche queste sono delle missioni quindi sono diverse rispetto alle modalità competizione perché anziché giocare contro dei player giocate contro dei bot vedete voi quale vi piace di più generalmente però pagano meglio le modalità competizione rispetto alle missioni però se volete provarle vedete insomma dove vi trovate meglio voi per quanto riguarda Luxury Autos questa settimana nella vetrina di sinistra abbiamo la Stromberg che è in offerta nella vetrina di destra invece abbiamo la nuovissima Obey 10F con questa bellissima livrea e in realtà qua più che guardarle non potete fare quindi se gli volete dare un'occhiata magari prima di acquistarla passate qua controllatela bene vedete se vi piace non la potete provare purtroppo però se vi piace la potete acquistare anche direttamente da qua andando vicino alla vetrina per quanto riguarda invece l'autosalone di Simeon come vedete abbiamo la Benefactor Glendale abbiamo la Bravado Banshee abbiamo la Carin Calico GTF che è in offerta questa settimana quindi se volete provarla venite prima qui la Benefactor Strider sempre in offerta questa settimana e la Rune sempre in offerta questa settimana quindi se volete provare le auto che sono in offerta questa settimana basta che vi avvicinate fate esaminare il veicolo e selezionate prova il veicolo fatto ciò lo provate se vi piace e siete soddisfatti lo potete acquistare sia qui che sul sito per quanto riguarda invece l'autoraduno DLS come vedete alle mie spalle abbiamo la lampada di casco in questa bellissima livrea rossa che potete vincere completamente gratis basta che aprite il menu interazione andate su Autoraduno DLS sfida del veicolo trofeo e come vedete dobbiamo posizionarci tra i primi 4 veramente molto facile però per 4 giorni di fila quindi dovete assicurarvi che giocate per 4 giorni di fila altrimenti non riuscite a prenderla mi raccomando fate attenzione perché devono essere gare della serie di gare dell'autoraduno DLS quindi fate attenzione non sono tutte le gare per quanto riguarda le auto qui nel test drive come vedete sono tutte e 3 auto che questa settimana sono in offerta partendo da sinistra abbiamo la Pegassi Infernus qui al centro abbiamo la Emperor Vectre con questa bella livrea e a destra abbiamo la Fister Growler anche qui se vi avvicinate come vedete potete provare il veicolo se vi piace appunto e volete acquistarlo provatelo prima poi se siete soddisfatti dopo la prova del veicolo potete definitivamente acquistarlo almeno insomma non vi acquistate un bidone bene raga nel caso in cui io mi dovessi essere dimenticato qualcosa fatemelo sapere qua sotto nei commenti mi raccomando lasciate un bel like se ancora non l'avete fatto che mi date veramente una grandissima mano cerchiamo di superare i 400 like per questo video ve ne sarei veramente molto grato e nulla detto questo ci vediamo con un prossimo video oppure con le live la sera se ci siete vi aspetto da dire tutto un salutone ciao raga ciao Grazie a tutti.